questi giorni abbiamo avuto qualche problema ecco qua perfetto allora buongiorno a tutti ragazzi oggi le nuove lezioni di digital forensics siete già una cinquantina ovviamente fatemi sapere se si sente bene se ci sono problemi via chat come al solito interaggiamo oggi la lezione di oggi sarà tenuta dal professor zangara è già collegato lo vedete pronto il professor zangara è un collega che ha collaborato con la cattedra di digital forensics fin dalla prima edizione del corso in particolare come vi dicevo all'inizio noi abbiamo sempre da tecnici il problema di riuscire ad adeguare il linguaggio e le nostre competenze nel momento in cui diciamo applichiamo l'informatica alla diciamo alla possibilità di studiare di mettere sul campo quelle che sono evidenze scientifiche abbiamo la necessità di adeguare sia il linguaggio ma soprattutto le competenze quelle che sono le norme che regolano sia in ambito civilistico che penale questa fattispecie per questo motivo ho fin dall'inizio cercato collaborazione con chi diciamo potesse colmare questo gap culturale che questo corso inevitabilmente necessita che si faccia e siamo riusciti nel tempo a innestare appunto nel corso due tre lezioni che permettessero di avere le basi giuridiche diciamo rispetto a quello che è poi il contesto quindi anche quest'anno nonostante le difficoltà siamo riusciti ad avere con noi il professor zangara è connesso anche lui in smart walking e quindi la lezione di oggi è quella del 31 li terrà a lui e ci fornirà questi questi elementi culturali che ci servono invece la lezione di giovedì è confermata e la continuo a fare la continuo a fare io quindi a questo punto io vi lascio a lui io rimango comunque connesso quindi la lezione la terra a lui per oggi ovviamente solite modalità di interazione via chat per le domande eventualmente se qualcuno vuole fare qualche intervento apre il microfono insomma solite modalità ormai voi siete bravi quindi insomma possiamo procedere buona buona lezione buongiorno ragazzi ho concordato con il professor e baciato così come gli altri anni di trattare preliminarmente alcuni aspetti fondamentali che ci aiuteranno ad interpretare correttamente ma anche consapevolmente il significato di un'attività professionale quella della consulenza tecnica che sarà il nucleo il il punto principale del del mio intervento odierno ci concentreremo per lo più sull'attività di consulenza tecnica effettuata con strumenti informatici ma soprattutto con tutta sugli strumenti informatici quindi con strumenti informatici sugli strumenti informatici gli specifici argomenti che tratteremo mirano a farvi acquisire questa minima conoscenza di base certamente non andremo troppo in profondità sui concetti giuridici perché mi rendo conto che ecco adesso l'eco si è spento effettivamente anche io all'inizio lo sentivo non so perché forse perché eravamo collegati in due adesso che il professore ha disattivato il suo audio evidentemente si è spenta l'eco vi dicevo una spolverata di nozioni giuridiche di base assolutamente propedeutica per cercare di capire come costituito il mondo giuridico nel quale si innesta questa attività professionale che è la consulenza tecnica che vedremo come si dipana e come gestirla all'interno di un mondo che è regolato da norme molto rigide sulle quali ovviamente non ci si può allontanare pena la perdita di alcune facoltà alcuni poteri sappiamo bene che il mondo giuridico è fatto di termini è fatto di poteri è fatto di facoltà se io perdo il termine utile quel potere viene meno in capo a me il consulente tecnico è una figura professionale che interviene all'interno del procedimento di qualsiasi procedimento giurisdizionale e sarebbe davvero inefficace il suo intervento se non si conoscessero le norme principali che regolano il procedimento stesso questa è un'occasione dico a voi probabilmente ci saranno molti di voi che hanno seguito il corso del primo semestre di information technology e law che tengo già da un paio d'anni presso il dipartimento di matematica informatica ci sarete tanti altri invece che avranno acquisito nel percorso formativo alcune minime informazioni giuridiche che sentiranno ripetersi da me oggi è il giorno 31 ci saranno tanti altri che effettivamente non hanno questo tessuto di base questa minima conoscenza perché hanno fatto un istituto hanno frequentato una scuola in cui non era previsto il diritto e che sentiranno per la prima volta alcune cose e potranno cogliere l'occasione per stimolare una curiosità e per trovare magari ispirazione per uno sbocco professionale alternativo rispetto a quello consueto di chi frequenta un corso di informatica all'università quello che vi introdurrò è un mondo di confine tra l'informatica e il diritto è un mondo di confine tra due scienze autonome del tutto autonome anzi per molti versi distanti tra di loro per altri versi molto vicine che effettivamente a ben guardare hanno tantissimi punti in comune rispetto a quello che si potrebbe pensare e sicuramente alcune nozioni giuridiche di base faranno comodo a qualunque attività professionale che voi intendiate svolgere nel vostro futuro insomma non c'è un'attività professionale che sia l'imprenditore che sia il funzionario pubblico che sia il libero professionista che non debba conoscere informazioni giuridiche di base io dico che a prescindere dalla attività professionale che si intenderà svolgere in futuro o che già alcuni di voi svolgono alcune nozioni giuridiche di base vanno conosciute da tutti i cittadini qualunque sia la vocazione qualunque sia la professione sono strumenti utili diciamo di sopravvivenza per capire dove siamo innestati tutto il mondo in cui viviamo è regolato da norme giuridiche quindi un po' capire come funziona il mondo del diritto è utile a prescindere non mi soffermerò troppo sulle norme perché mi rendo conto che non c'è interesse a conoscere profondamente come sono regolati gli istituti nello specifico in profondità cercherò di fermarmi sulla razio delle norme perché ci sono quelle norme qual è lo scopo delle norme si dice in gergo tecnico qual è lo spirito della norma giuridica cosa vuole tutelare questo è un concetto più profondo perché al di là di come poi viene espressa la norma lo spirito della norma rimane per qualche tempo immutato non che non muti anche questo ma di solito mutano più velocemente le norme piuttosto che le razze delle norme magari la razze rimane simile ma le norme mutano diverse volte un esempio lampante è il codice dell'amministrazione digitale avrete sentito parlare il decreto legislativo 82 2005 che in 15 anni è mutato una quindicina di volte poi la razza qual è quella di snellire il lavoro della pubblica amministrazione oppure snellire il lavoro o il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione è ovvio che è mutato così tante volte perché la tecnica, la tecnologia in questi anni è stata particolarmente rapida nella sua evoluzione e dunque gli istituti si sono potuti, dovuti adeguare al nuovo portato della tecnologia quindi volgeremo lo sguardo su alcuni principi che regolano il processo giurisdizionale nello Stato italiano parleremo quindi di norme, di poteri, di controversie e come lo Stato italiano ha inteso regolare il raggiungimento di una cosa importantissima che è la verità processuale su questo ci soffermeremo un attimo perché non è un concetto così scontato è un concetto profondo ed è un concetto di compromesso vi anticipo questo termine che ci servirà più avanti quando arriveremo al punto specifico il giorno 31 così tanto per concludere questa parte introduttiva ci soffermeremo invece su due concetti su due terreni giuridici molto specifici uno è il mondo dei reati dei reati informatici soprattutto e l'altro è quello del tutela della riservatezza la cosiddetta privacy che proprio in questi giorni viene toccata da profondi stravolgimenti concettuali proprio in ragione di una esigenza probabilmente superiore con un valore superiore a livello giuridico che è quella della tutela della salute su questo appunto ci soffermeremo su questi due argomenti ci soffermeremo nell'incontro che avremo la prossima settimana il 31 vado a condividere alcune diapositive che ho preparato per voi condivido questa finestra ok ditemi se la vedete adesso potete vederla bene bene probabilmente la terrò così perché mi son fatto il conto che non avendo uno monitor così grande nella disponibilità in modalità smart working se lo metto a tutto schermo nel mio monitor non riesco più a seguire voi con la chat quindi mi contento di tenerla così e di andare avanti progressivamente quindi senza mandarla in presentazione dal titolo della diapositiva vediamo cosa esce fuori in ragione del pensiero che mi sono fatto di raccontare l'idea che mi sono fatto oggi di raccontare a voi il processo giurisdizionale innanzitutto la prima parola che viene che viene che viene che viene è questo giurisdizionale è una parola probabilmente nuova o comunque inconsueta è una parola molto tecnica nel mondo del diritto deriva dalla crasi di due termini ovviamente di origine latina molto del nostro diritto direi la maggior parte la quasi totalità del diritto italiano proviene dal diritto romano dall'antico diritto della Roma antica tant'è che oggi ci ritroviamo tantissimi che dà quel diritto romano deriva giurisdizionale quindi è la crasi di due termini di due termini giurisdizio che significa in nozione giuridica oppure dettato dai giudici cosa vuol dire quello che succede nella nostra società nei rapporti tra gli uomini viene portato in processo nel processo davanti a un giudice il quale trasforma ciò che è successo nella realtà in termini giuridici affinché possa come fa questa giuridica perché ieri era di buon umore e quindi assolve oggi è arrabbiato almeno nel nostro diritto una pura volontà del giudice scusi si sente malissimo eh lo so non ho capito perché è un problema di rete secondo voi non lo so professore però sembra che va di al per due al per cinque ogni volta che parla in questo momento non so perché questo è un problema di banda è un problema di rete perché è iniziata appena avviato la presentazione ok prova alla parte il tuo video grazie quindi senza presentazione aspettate un attimo forse conviene appunto disattivare il video e magari lasciare solo la presentazione ah sì ok disattiva la videocamera la presentazione la vedete adesso? no adesso no dovreste vederla adesso si vede? sì adesso sì occhio mi sentite sempre male? o mi sentite meglio? per adesso sembra si senta bene dov'è che qual è l'ultimo concetto che avevi espresso che non si è riuscito a capire così prova a ripeterlo e diciamo praticamente quasi all'inizio della presentazione ok da quando quindi ho messo sulla la slide corretto? sì quasi quasi sì bene posso andare avanti? mi sentite? sì 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 per adesso si sente ok vi dicevo procedimento giurisdizionale processo giurisdizionale cioè il processo che si tiene davanti al giudice giurisdizio dalla quale cioè locuzione latina dalla quale deriva il termine italiano giurisdizionale ok ok vi leggo nel frattempo significa tradurre ciò che è successo nella realtà in termini giuridici affinché il giudice possa risolvere la questione e dare ragione a qualcuno e torto a qualcun altro insomma trovare la soluzione giuridica appunto al fatto concreto giurisdizio quindi deriva da ius dicere dire in maniera giuridica dire quello che è successo nella realtà in maniera giuridica tradurre ciò che è successo nella realtà in linguaggio in termini appunto del diritto in maniera che il giudice possa trovare all'interno delle norme che regolano lo stato italiano quella specifica che regola quel fatto concreto che è accaduto nella realtà dunque il giudice decide sulla base di ciò che è scritto già nelle norme il suo compito il suo la sua attività professionale si esplica appunto nel trovare la norma specifica che regola il caso portato alla sua attenzione quindi avendo capito di cosa si tratta di cosa tratteremo oggi il processo giurisdizionale e l'attività di consulenza quindi questa attività che si innesta all'interno del procedimento per poter consentire al giudice di trovare la migliore verità possibile di risolvere il caso quanto più fedelmente possibile rispetto a ciò che è successo nella realtà lo Stato italiano lo Stato italiano ha inteso ripartire il suo potere che pur rimanendo unico in capo allo Stato è diviso in diversi organi e allora ha diviso la funzione legislativa è la data in capo ad un organo che è appunto il Parlamento italiano che costituisce l'organo legislativo secondo le norme dell'ordinamento giurico italiano cioè colui che produce le leggi è il Parlamento nella sua composizione di due camere la Camera dei Deputati del Senato della Repubblica che lo sento di nuovo male perché io ho sulle slide voi non mi sentite se io invece la slide la riduco a icona adesso mi dovreste sentire meglio confermato? ora la sento sì quindi quello è il problema quindi io farò scorrere le slide e poi adesso vedete comunque la slide la slide nuova cioè quella in cui sì sì perfetto ok quindi io di tanto in tanto dovrò far andare avanti le slide in quel momento non mi sentite poi la riduco di nuova icona e mi doveste risentire facciamo così e probabilmente ne usciamo indenni la funzione quindi amministrativa è svolta da un altro organo dello Stato che si chiama governo e quindi l'organo esecutivo cioè colui che deve mettere in pratica le norme che sono state appunto promulgate dal Presidente della Repubblica attraverso l'opera svolta dal Parlamento lo Stato quindi svolge un'attività effettiva e concreta diretta al soddisfacimento dei suoi fini immediati attraverso il governo come sapete il governo è formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e poi dai Ministeri i Ministeri sono divisi per aree per così dire tematiche il Ministero della Salute si occupa delle questioni relative legate alla salute il Ministero dell'interno dell'ordine pubblico interno dello Stato il Ministero degli esteri dei rapporti con gli altri Stati dello Stato italiano con gli altri Stati extra appunto che vanno al di là del territorio italiano poi c'è il Ministero dell'istruzione il Ministero dell'università il Ministero delle politiche agricole il Ministero del turismo e c'è del Ministero del Tesoro il Ministero della giustizia sono organi tecnicissimi che si occupano di regolare quegli specifici argomenti di mettere in pratica le norme del Parlamento per far sì che ognuno di quei campi di cui si occupano si sviluppino e creino valore nel territorio italiano la terza funzione quella che ci interessa di più il terzo potere che viene esercitato all'interno dello Stato italiano è appunto il potere giurisdizionale la funzione giurisdizionale che è esercitata da un organo specifico che si chiama magistratura l'insieme dei magistrati cioè dei giudici che svolgono appunto la funzione di dirimere le questioni giuridiche per così dire i fatti giuridici che creano patologia nel sistema cioè quando si presume che una norma venga violata all'interno dell'ordinamento giuridico italiano interviene un giudice che pone fine alla incertezza riporta l'ordinamento in equilibrio quell'equilibrio che era stato per così dire perso nel momento in cui c'è stata una violazione una presunta violazione di una norma giuridica quindi la la funzione del giudice riallacciandomi a quello che avevo detto un attimo fa è quella di accertare la volontà normativa cioè il giudice quando emana una sentenza che è l'atto conclusivo col quale si conclude il processo giurisdizionale non fa altro che rendere chiaro a tutti perché quel fatto va risolto in quel modo perché lo ha allacciato lo ha agganciato ad una norma giuridica che era stata emanata dal Parlamento che è vigente nello Stato italiano cioè quando dice Tizio ha torto e Caio ha ragione lo fa perché ha trovato nell'ordinamento giuridico italiano nelle norme che regolano lo Stato italiano una norma che regola quel caso specifico che regola si dice tecnicamente quella fattispecie concreta in tal modo sostanzialmente il giudice non fa altro che rendere certo il diritto laddove vi sia un'incertezza su una norma o su chi ha un diritto e chi non lo ha quel diritto il giudice riporta equilibrio riporta certezza nell'ordinamento giuridico potrebbe ripetere la funzione legislativa scrive uno di voi la funzione legislativa è un potere che è esercitato dallo Stato ed è quello di porre le norme porre in essere le norme giuridiche che regolano il funzionamento dello Stato e i rapporti tra i cittadini e i rapporti tra i cittadini e lo Stato le leggi come voi sapete sono prodotti nel senso che vengono a essere vengono a nascere all'interno del Parlamento il Parlamento è un organo costituzionalmente rilevante quindi significa che è disciplinato all'interno della Carta Costituzionale che è la norma di riferimento italiana ed è costituito da due Camere la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono di composizione leggermente diversa adesso è in corso una grandissima riforma che prevede la riduzione dei parlamentari forse con lo scopo di contenere la spesa pubblica ma probabilmente anche con lo scopo di snellire alcune funzioni che svolge appunto il Parlamento e ciascuna norma che deve essere promulgata dal Capo dello Stato adesso ci arriviamo deve passare per l'approvazione delle due Camere ci significa che ciascuna Camera prende in esame il testo di una nuova norma che vuole essere promulgata ne approva il contenuto integralmente e questo lo fa sia la Camera dei Deputati che il Senato della Repubblica cioè la stessa norma passa attraverso le due Camere che approvano integralmente il contenuto di quella norma a quel punto la norma è quasi perfetta perché passa al Capo dello Stato il quale si occupa appunto di promulgare un atto formale che compie il Capo dello Stato che promulga la norma a quel punto la norma cioè la legge entra a far parte dell'ordinamento giuridico a pieno titolo e tutti i cittadini sono tenuti a rispettarne il contenuto a farla propria cioè a comportarsi secondo quello che è disposto nella norma giuridica questo è un particolare che secondo me va metabolizzato meglio cioè tutti noi dobbiamo capire che rispettare la norma significa fare l'interesse di noi tutti cioè dello Stato lo Stato pone in essere norme giuridiche perché tutti le rispettino affinché si possa tradurre questo rispetto collettivo in un obiettivo comune da raggiungere il fatto di non rispettare una norma non è rilevante in sé meglio non è soltanto rilevante in sé ma rileva anche nel fatto che lo Stato stenta a raggiungere il suo obiettivo perché non tutti la perseguono perché non tutti fanno il volere del Parlamento perché lo Stato è uno Stato il nostro Stato è uno Stato democratico democratico deriva appunto da demos che significa popolo in greco e quindi vuol dire governo del popolo perché è un governo del popolo se le norme le fa il Parlamento le prepara quindi le predispone il Parlamento è democratico perché in Parlamento ci stanno coloro che noi abbiamo eletto quando siamo chiamati ad andare alle urne alle politiche di tanto in tanto ci chiamano alle urne per esprimere il nostro volere il nostro voto che è un diritto ed un dovere e con quel voto noi eleggiamo una compagine politica o addirittura un individuo che sta in Parlamento in nostra rappresentanza quindi noi ovviamente non possiamo partecipare così direttamente ma indirettamente nei lavori del Parlamento attraverso la persona che noi abbiamo scelto e che va lì a rappresentare probabilmente un programma che noi abbiamo condiviso ci sono anche strumenti di democrazia diretta direttamente che può esercitare il singolo cittadino vi parlo per esempio del referendum abrogativo vi parlo per esempio dell'iniziativa legislativa sono degli istituti che sono visti nello Stato italiano che permettono a un singolo individuo di esercitare direttamente la sua volontà all'interno del governo del Paese governo detto in senso a tecnico nel senso di amministrazione del Paese il referendum abrogativo c'è una legge che non ci piace veniamo chiamati alle urne per esprimere se effettivamente quella norma deve rimanere nell'ordinamento giuridico o deve essere abrogata quindi deve essere cancellata e nessuno da quel momento è tenuto a rispettarla perché evidentemente non risponde più all'interesse collettivo da parte dei cittadini l'iniziativa legislativa è un altro strumento di democrazia diretta che prevede appunto la proposizione al Parlamento di una norma giuridica che nasce da basso un certo numero di cittadini può fare una proposta di una legge che poi viene discussa in Parlamento e se quella legge risulta essere rispondente a un interesse dello Stato lo Stato la può evidentemente adottare e perfezionare attraverso appunto la promulgazione da parte del Capo dello Stato il Capo dello Stato che abbiamo detto promulga tecnicamente la legge che viene pubblicata su un sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che è una rivista distribuita in tutte le edicole distribuita in tutte le istituzioni in tutti i comuni le università e che è l'atto col quale tutti i cittadini possono essere messi al corrente dell'esistenza di una nuova norma giuridica Gazzetta Ufficiale che pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che prevede una vacatio legis cioè la norma una volta pubblicata in Gazzetta rimane così conosciuta dai cittadini ma non entra in vigore di un certo periodo di tempo di solito la vacatio legis è di 15 giorni e questi 15 giorni servono ai cittadini di mettersi al cor diciamo in carreggiata rispetto al dettato normativo di conoscere il dettato normativo e conformarsi perché allo scadere dei 15 giorni quella legge entra in vigore cioè tutti da quel momento quindi da quei 15 giorni sono tenuti a rispettarla quindi i 15 giorni della vacatio legis servono a mettersi in regola con la norma giuridica vi dicevo che tipicamente la vacatio legis è di 15 giorni ma può essere anche più ampia nel caso del regolamento europeo che è una norma europea la vacatio legis è stata diciamo di un mese quindi di 30 giorni ma la piena operatività del GDPR all'interno degli stati dei 28 che ora sono 27 dopo la Brexit degli stati europei a parte dal maggio 2016 al maggio 2018 ci sono stati voluti due anni affinché tutti potessero adeguarsi alle norme così nuove e stesse perché il portato normativo innovativo del GDPR è stato così ampio che è stato consentito a tutte le imprese a tutti i cittadini dell'Unione europea di potersi conformare prima dell'entrata in piena operatività della norma appunto del regolamento europeo quindi la vacatio legis può mutare in ragione della portata innovativa della legge se è particolarmente innovativa nel senso che non è così semplice adeguarvisi immediatamente la vacatio probabilmente sarà più lunga dei 15 canonici giorni previsti se invece una legge diciamo che non comporta chissà quali modifiche all'interno del tessuto sociale allora la vacatio corrisponderà ai 15 giorni spero che con questa diciamo intervento sul Parlamento abbiamo chiarito meglio la funzione legislativa dicevamo funzione amministrativa la messa in pratica quindi l'esecuzione delle norme attraverso il governo che è formato appunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministeri e quindi dai ministri che sono a capo dei ministeri e la funzione giurisdizionale cioè quella che è chiamata a dirimere le controversie i giudici che sono chiamati a dirimere quindi a risolvere le controversie che si presentano all'interno dello Stato italiano parlando di magistratura vi devo subito chiarire che la magistratura è un un organo dello Stato che divide i suoi magistrati in due rami differenti ci sono i magistrati requirenti e i magistrati giudicanti adesso adesso risponderò alla domanda che mi è comparsa da uno di voi però prima preferisco completare il concetto della bipartizione dei magistrati i magistrati requirenti sono tecnicamente i pubblici ministeri cioè quelli che intervengono in una fase patologica dell'applicazione delle norme e in particolare quando viene trasgredita una norma penale in quel momento ci soffermeremo più avanti interviene un organo dello Stato quindi un giudice requirente che cercherà di portare ad un altro giudice questa volta giudicante la questione penale che è avvenuta nella realtà per cercare di trovare soluzione al caso la magistratura invece giudicante è composta da quei giudici che sono organi terzi rispetto alla controversia cioè che non hanno nulla a che vedere con quello che viene portato alla loro attenzione e che appunto decideranno chi è colpevole chi è innocente chi deve pagare chi deve avere un credito a chi spetta un diritto a chi non spetta un diritto quindi quando un laureato in giurisprudenza tipicamente partecipa al concorso in magistratura e lo vince è un concorso pubblico e lo vince nel momento in cui entra a far parte della magistratura sceglierà se voler essere un magistrato requirente cioè di quello che porta l'accusa nel processo penale oppure un magistrato giudicante cioè colui che deve giudicare chi ha torto e chi ha ragione quindi una carriera completamente diversa non può capitare che in un giudizio uno un soggetto è un magistrato requirente e in un altro giudizio quello stesso magistrato è giudicante sono due carriere che effettivamente si dividono sin dall'inizio qualcuno di voi mi sta chiedendo l'attività legislativa svolta ma tutta l'attività legislativa è svolta dal governo forse non ho espresso benissimo questo concetto l'attività legislativa è svolta dal Parlamento la messa in esecuzione delle leggi che sono emanate dal Parlamento che sono promulgate dal Parlamento è svolta dal governo quindi una volta che il tessuto normativo è presente all'interno dell'ordinamento giuridico il governo mette in pratica quelle norme attraverso l'attività dei ministeri un DPCM un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri un DPCM tipicamente è un regolamento attuativo di una norma primaria quindi il DPCM è una norma secondaria che non fa altro che specificare come deve essere attuata quella norma promulgata dal Capo dello Stato prodotta dal Parlamento ne abbiamo probabilmente la domanda è legata ai provvedimenti del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri Conte che in questi giorni ha emanato i DPCM che non sono altro che delle specifiche del Decreto Cura Italia nel caso specifico ovviamente ci sono tanti DPCM che specificano come debbono essere messe in pratica le disposizioni di una norma primaria quindi il DPCM così come il Decreto Ministeriale così come il Decreto del Presidente della Repubblica i DPR sono dei tipici regolamenti attuativi delle norme primarie torniamo a noi adesso non mi sentirete per un attimo ma adesso che io questa la riduco a icona dovreste risentirmi vedete la nuova diapositiva la nuova diapositiva riguarda la composizione delle controverse laddove no non si vede io no no ora si bene no vabbè c'è una certa latenza rispetto a quello che faccio e quello che poi viene visualizzato nel vostro monitor questa diapositiva è intitolata composizione delle controverse dove composizione è una parola tecnica cioè significa riportare a normalità il sistema dove c'è una controversia la risoluzione della controversia è appannaggio dei giudici cioè significa che laddove c'è una controversia viene portata all'attenzione dei giudici che durante il processo giurisdizionale porteranno di nuovo equilibrio creeranno la nuova regola da seguire perché quella controversia venga risolta perché si possa risolvere quella controversia per accertare l'esistenza o la violazione di un diritto si adisce un giudice cioè ci si rivolge ad un giudice adire un giudice significa rivolgersi ad un giudice perché ponga fine ad una situazione di incertezza del diritto chi sono i giudici in Italia in Italia ci sono tanti giudici che sono competenti per materia e per valore e che coprono tutto i possibili campi e tutte le possibili materie che appunto regolano la nostra vita collettiva noi sappiamo che la nostra costituzione è un primo grado di giudizio un secondo grado di giudizio e un giudizio un terzo grado di giudizio che si chiama giudizio di legittimità vediamo di che si tratta nel primo grado di giudizio i giudici conoscono per la prima volta una questione portata alla loro attenzione in questo primo grado di giudizio noi troviamo all'interno dell'ordinamento giuridico italiano alcuni giudici il giudice di pace il tribunale in funzione monocratica e collegiale la corte d'assise e il tribunale amministrativo regionale il tar questi sono tutti giudici italiani di primo grado che ovviamente si divide cioè questione che viene portata alla loro attenzione in ragione della materia se si tratta di un omicidio o se si tratta di uno spaccio di stupefacenti o se si tratta di una questione condominiale o se si tratta di una violazione del codice della strada o del codice della navigazione ecco tutte queste questioni hanno un giudice che è tenuto a conoscerle quindi a risolverle quindi se per esempio è una si tratta di un di una causa che deriva dalla perdita di acqua dell'appartamento che sta sopra il mio appartamento e quindi il fatto che mi si macchiano le pareti perché la signora del piano di sopra non ha chiuso bene il rubinetto oppure ha un problema sull'impianto idrico di quella questione che certamente non è tra le più rilevanti ma è certamente una questione da risolvere è competente il giudice di pace quindi il giudice di pace è quello che ha le più competenze più lievi si occupa dunque di risolvere le questioni giuridiche di minor valore si dice fino a 5.000 euro quindi quando la causa ha un importo si quantifica il valore della causa di un importo inferiore a 5.000 euro competente è il giudice di pace ma ha anche delle competenze per materia quindi per esempio le violazioni del codice della strada le violazioni lievi del codice della strada sono conosciute dal giudice di pace così come delle questioni condominali quindi tutto quello che avviene all'interno del condominio quello che avviene di patologico all'interno di un condominio viene conosciuto dal giudice di pace il tribunale in versione monocratico collegiale significa che è composto da un giudice oppure da tre giudici nella versione collegiale conosce dei fatti un po' più importanti per esempio alcuni omicidi oppure diciamo il traffico di stupefacenti eccetera ovviamente più il giudice no? perché il giudice di pace è un giudice il tribunale è un giudice più il giudice è composto da più persone giudice non dobbiamo intenderlo come soggetto ma come entità se il giudice è composto da più persone è evidente che la sua conclusione sarà più ponderata perché mette insieme la volontà di tre persone anziché di una persona altro giudice di primo grado è la corte d'assise che si occupa dei reati più importanti ed ha una composizione diversa rispetto agli altri giudici che abbiamo visto finora perché è formato da otto soggetti di cui sono dei propri giudici che hanno vinto il concorso di magistratura e sei soggetti che sono i cosiddetti giudici popolari cioè sono soggetti privati che avendo delle competenze molto specifiche entrano a far parte di questo collegio giudicante poi vi sono le questioni di diritto amministrativo il diritto amministrativo è un diritto in parte derogatorio rispetto al diritto comune rispetto al diritto che regola il diritto che intende regolare tutte le questioni in cui l'interno è un diritto del singolo cittadino vi faccio un esempio tanto per chiarirci se un comune decide di costruire un ospedale in un certo luogo è perché immagina che o la regione dico o addirittura lo stato è perché immagina che in quello stato in quel territorio vi sia l'esigenza di costruire un un ospedale individuerà i tecnici del comune della regione dello stato individueranno un terreno in cui costruire quell'ospedale che insiste in quel territorio quel terreno verrà espropriato a quel soggetto che cos'è l'espropriazione è quindi un istituto di diritto amministrativo che prevede la compravendita tra virgolette di un terreno in favore dello stato però non è una compravendita normale in cui due soggetti decidono se vendere o comprare liberamente come avviene nella realtà per tutte le altre cose se io voglio vendere la mia casa decido con un altro soggetto a quale prezzo venderla ma soprattutto se venderla nell'espropriazione questo non avviene lo stato decide per un interesse collettivo quindi per la costruzione nel nostro caso specifico ad esempio dell'ospedale di costruirlo su quel terreno lo stato stabilisce il prezzo di quel terreno ovviamente seguendo delle tabelle ben conosciute da tutti i cittadini e il soggetto che è proprietario di quel terreno non può far altro che prendersi quella somma ma è vendere il suo terreno cioè non ha potestà decisionale se lo stato decide che quel terreno è quello giusto su cui costruire l'ospedale quindi laddove vi sia un interesse collettivo predominante lì vi è una norma di diritto amministrativo che regola i rapporti ecco laddove ci fossero questioni diciamo controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione oppure tra pubbliche amministrazioni lì interviene il diritto amministrativo le questioni di diritto amministrativo sono conosciute le questioni le cause di diritto amministrativo sono conosciute dal tribunale amministrativo regionale in primo grado quindi i TAR noi in Sicilia abbiamo una sede principale di TAR che è nel capoluogo di regione a Palermo e una sede distaccata nella nostra città di Catania in tutte le altre regioni c'è una sola sede di TAR per regione il TAR decide il primo grado delle questioni di diritto amministrativo il giudice dunque conosce la questione e si fa un'idea di chi ha torto e chi ha ragione adesso vedremo cosa avviene all'interno del processo perché il giudice si faccia un'idea di quello che è successo nella realtà affinché possa trovare la soluzione giuridica al caso specifico il processo si conclude con un atto che mette fine alla questione che si chiama sentenza tipicamente si chiama sentenza la sentenza chiude il primo grado di quel giudizio dal momento in cui viene pubblicata la sentenza comincia a decorrere alcuni termini cioè un certo termine che di solito può essere di 60 giorni ma può essere anche abbreviato di 30 giorni entro cui il soggetto che non è soddisfatto della decisione del giudice può impugnare e quindi ricorrere in appello si dice quindi chiedere una seconda valutazione ad un altro giudice di quel fatto che è stato conosciuto in primo grado quindi la magistratura si attrezza affinché un secondo giudice di grado superiore possa conoscere nuovamente la questione che era stata già conosciuta e decisa dal giudice di primo grado affinché possa trovare un ulteriore eventuale nuova soluzione perché dico ulteriore eventuale perché il giudice di secondo grado non necessariamente deve confutare la sentenza di primo grado analizzerà il caso nuovamente acquisirà le nuove prove e deciderà liberamente cioè non necessariamente tenendo in considerazione quello che è stato deciso in primo grado quindi può stravolgere la sentenza di primo grado come può essere aderente adesivo rispetto alla sentenza di primo grado rispetto alle questioni conosciute in primo grado dal giudice di pace dal tribunale è competente la corte d'appello cioè quando una sentenza di primo grado è stata emanata dal giudice di pace oppure dal tribunale che sia in funzione monocratico che sia in funzione collegiale competente in secondo grado è la corte d'appello tant'è che si dice agisco in appello cioè significa agisco in secondo grado perché non sono rimasto soddisfatto della decisione del giudice di primo grado e dunque voglio che un altro giudice conosca la mia questione affinché possa eventualmente appunto decidere in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto il giudice di primo grado per le questioni di primo grado conosciute dalla corte d'assise in secondo grado vi sarà la corte d'assise d'appello per le questioni conosciute dal tribunale amministrativo regionale competente a conoscere il secondo grado è il consiglio di stato che è un organo che ha sede a Roma e conosce il secondo grado di tutti di tutte le decisioni emanate dai tribunali amministrativi regionali di tutte le regioni ok quindi mentre corte d'appello e corte d'assise d'appello sono presenti in ogni distretto nel territorio italiano il consiglio di stato ha sede unica a Roma e conosce l'appello ed è deputato quindi ha competenza a conoscere il secondo grado di tutte le sentenze emanate dai in Sicilia competente è una ragione sappiamo che è una regione del statuto speciale ha un ordinamento giurisdizionale leggermente diverso perché il secondo grado del tribunale amministrativo regionale della regione siciliana è conosciuto non già dal consiglio di stato ma dal consiglio di giustizia amministrativa il cosiddetto cga quindi soltanto in Sicilia le questioni di secondo grado quindi l'appello per così dire in maniera a tecnica delle decisioni del tar Sicilia viene conosciuto dal cga che ha sede evidentemente a Palermo e fin qui abbiamo analizzato i giudici che si occupano del merito della questione che significa del merito significa che entrano nello specifico vanno a conoscere il fatto accaduto affinché possano trovare la soluzione giuridica che pone fine a una situazione di incertezza di cui parlavamo prima c'è un terzo livello di giustizia che è appunto il giudizio di legittimità il terzo grado che è conosciuto unicamente da un giudice supremo che si chiama appunto Corte Suprema Corte di Cassazione che è sede a Roma vedete nella slide vi ho messo immagini di questo del luogo in cui si trova la Suprema Corte di Cassazione che è il palazzaccio sul Lungotevere non so se qualcuno di voi ci ha mai fatto caso è un edificio mastodontico di epoca fascista che che ospita appunto le sezioni della Corte di Cassazione che conoscono il terzo grado di tutti i giudizi che sono svolti in Italia è un grado vi dicevo non di merito ma di legittimità che significa che è di legittimità che non va a conoscere più il fatto accaduto perché su quello già si sono pronunciati due giudici ma va soltanto a verificare che le leggi sia di ordine sostanziale sia di ordine processuale sono state rispettate coerentemente da parte dei giudici che hanno analizzato la questione in precedenza cioè il giudizio di legittimità non entra più nel merito non va più la Corte di Cassazione ad analizzare il fatto successo ma semplicemente che nelle decisioni dei giudici che lo hanno preceduto le norme siano state interpretate in maniera corretta qualora dovesse riscontrare la non correttezza di alcune interpretazioni da un'indicazione al giudice per esempio di secondo grado su come interpretare una certa norma e allora quel giudice o un altro giudice dovranno ripronunciarsi rispettando il dettato la sentenza della Corte di Cassazione in Italia cambio slide in Italia ovviamente è tutto quello che vi dico è semplificato perché non posso entrare troppo nel dettaglio non ha senso entrare troppo nel dettaglio poi se qualcuno di voi vuole approfondire con me rimango certamente disponibile per chiacchierate private in Italia non esistono soltanto quei giudici che vi ho fatto vedere in quella slide ma ce ne sono tanti altri c'è il Tribunale dei minori c'è la commissione tributaria c'è il Tribunale Superiore regionale delle acque pubbliche c'è il Tribunale militare c'è la Corte Costituzionale c'è la Corte dei Conti c'è il Tribunale di Sorveglianza ci sono diversi altri giudici che hanno competenze specifiche per esempio la Corte Costituzionale formata da 15 giudici è chiamata a risolvere le questioni di costituzionalità di una norma cioè se una norma emanata dal Parlamento dal governo va contro e conforme alla Costituzione non sappiamo che per la gerarchia delle fonti nessuna norma in Italia può andare contro le disposizioni della che sono previste nella Carta Costituzionale cioè nella nostra Costituzione quindi laddove qualcuno alzi il ditino e dica secondo me questa norma se la guardiamo sotto questo profilo sotto questa angolazione è contraria per esempio vi dico ad una libertà che è garantita dalla Costituzione allora competente a conoscere quella questione è la Corte Costituzionale che si pronuncerà e dirà sì è vero lede un principio costituzionalmente garantito questa norma e dunque deve essere cancellata dall'ordinamento giuridico oppure no può decidere che in effetti quell'aspetto non è lesivo e dunque quella norma può continuare ad esistere il Tribunale dei minori laddove vi sia un reato quindi una fattispecie penale che coinvolga un soggetto che non abbia ancora compiuto gli anni 18 a giudicare ci sarà non il Tribunale ordinario quelli che vi ho fatto vedere prima ma un Tribunale dei minori che è costituito una composizione psicologica infantile cioè soggetti che hanno più capacità di comprendere cosa è successo nella mente di un adolescente rispetto a quello che può fare un giudice normale che queste competenze specialistiche può non avere abbiamo visto finora le modalità ordinarie che l'ordinamento giuridico conosce per risolvere le controversie il giudice della magistratura l'ordinamento giuridico italiano per il diritto civile esclusivamente per il diritto civile conosce anche ha previsto anche un modo derogatorio informale informale per risolvere le controversie che è l'istituto dell'arbitrato vi ripeto vale soltanto per le questioni di diritto civile l'arbitrato dunque è un modo alternativo disciplinato dallo stato che può essere adottato dai singoli cittadini per risolvere una loro controversia le parti dunque si affidano ad un arbitro o ad un collegio di arbitri per chiedere loro di risolvere un determinato caso quali sono le ragioni per le quali un soggetto non dovrebbe ricorrere alla magistratura ma agli arbitri per risolvere un caso certamente potrebbero essere ragioni di riservatezza una cosa è che lo rendo pubblico attraverso un processo pubblico altra cosa è che mi chiamo un arbitro e dico abbiamo questo problema per favore ci dai la soluzione lo conoscerà soltanto quell'arbitro quel problema un problema potrebbe essere anche economico un'altra ragione se intento un processo giurisdizionale o delle spese che probabilmente non controllo sin dall'inizio se mi rivolgo a un arbitro dico noi abbiamo questa questione da risolvere dicci tu quanto dobbiamo darti e sappiamo sin dall'inizio a quali spese andremo incontro sicuramente potrebbe esserci anche una ragione di tempi se andiamo alla magistratura ordinaria sappiamo che oggi come oggi nonostante l'introduzione del processo civile telematico che certamente ha snellito alcune procedure giurisdizionali una causa civile dura mediamente dieci anni e una causa penale dura mediamente cinque anni cioè ci sono cause civili che durano anche venticinque anni e cause ovviamente che si risolvono in un'udienza quindi in pochi mesi e quindi la media è dieci anni cause penali che sono leggermente più rapide ma i cinque anni di media ci stanno tutti e quindi invece se ci si rivolge a un arbitro gli si dice se per favore entro l'estate mi dai la soluzione così noi possiamo andare avanti col nostro lavoro tipicamente si rivolgono agli arbitri le questioni che è il diritto commerciale quando spesso ci sono affari tra soggetti magari che non stanno nemmeno nello stesso paese quindi il diritto internazionale sarebbe ancora più complesso da da osservare e quindi si va da un luminare di quella materia oppure da un soggetto che per entrambe le parti è un soggetto valido nel senso che ha le competenze per poter risolvere equamente quella questione e si chiede a lui di risolvere il caso il caso specifico ovviamente l'arbitro non ha libertà assoluta di fare tutto ciò che vuole nel risolvere quella controversa sicuramente deve sentire entrambe le parti deve andare in contraddittorio si dice cioè deve sentire le ragioni dell'una e dell'altra parte per poter decidere e la sua decisione deve essere sicuramente motivata cioè la motivazione è un elemento imprescindibile della decisione dell'arbitro l'arbitro non può dire decido così perché tu mi fai simpatia decido così perché secondo il mio prudente apprezzamento secondo le norme giuridiche secondo il trascorso delle due attività secondo me è più equo è più corretto è più conforme alle norme decidere in questo senso un modo ancora più alternativo di decidere le controversie è quello del più tecnologico se vogliamo che si è introdotto con la diffusione delle tecnologie della informazione quindi delle tecnologie telematiche è quello dell'ADR o delle ODR le Online Dispute Resolution oppure Alternative Dispute Resolution sono delle modalità non previste dall'ordinamento giuridico che si sovrappongono all'istituto dell'arbitrato e che appunto si servono appunto di arbitri internazionali spesso che trovano appunto la soluzione più più equa più corretta laddove vi siano per esempio questioni commerciali tra soggetti appunto che vivono in stati diversi in un mondo globalizzato sono sempre più frequenti e che quindi portano alla soluzione rapidissima di una questione proprio perché si servono delle tecnologie quindi non c'è motivo di spostarsi non c'è lo scambio documentale avviene attraverso documenti in formato elettronico qualcuno di voi mi scrive ma l'arbitro è un giudice di fatto non è un giudice della magistratura non l'esclude che lo possa essere ma di solito è un tecnico è un tecnico di una certa materia che potrebbe anche non avere mai avuto a che fare con la magistratura e che però in quella specifica questione è assai competente no? perché ad esempio è è riconosciuto come un luminare su quel tema e quindi ci si affida a lui perché si sa che è una persona di buonsenso è una persona che non si fa non si lascia corrompere e dunque ci si rivolge a lui perché possa perché possa dare il suo parere che a quel punto diventa una decisione a tutti gli effetti su quella questione nell'istituto dell'arbitrato la decisione da parte dell'arbitro prende il nome di lodo il lodo arbitrale cioè è esattamente la trasposizione di quello che è la sentenza nel giudice ordinario il lodo dunque è l'atto finale il lodo viene dal latino laudus è come se fosse laudus si traduce in ciò che piace alle parti per così dire cioè come se le parti facessero un contratto di risoluzione della controversia attraverso quello che è stabilito dall'arbitro il laudus cioè il lodo è una è tutti gli effetti una sentenza di primo grado che può essere ricorsa in appello al giudice ordinario state attenti su questo passaggio mi rivolgo all'arbitro l'arbitro mi risolve la questione con un lodo arbitrale quindi una sua sentenza io quel lodo non lo accolgo perché ritengo che non ha valutato correttamente la mia posizione posso ricorrere al lodo attraverso la magistratura ordinaria di secondo grado proprio perché i tre gradi di giudizio sono assicurati oltre che dalla nostra costituzione ovviamente dall'intero corpo ordinamentale delle norme italiane due parole due parole volevo spendere sul significato di sentenza la sentenza in generale che pone fine anche la sentenza di terzo grado la sentenza di secondo grado pone fine ad un giudizio perché pone fine perché potrebbe porre fine anche una sentenza di primo grado se nei 60 giorni tipici nessuno ricorre in appello quella sentenza si dice fa stato fra le parti diventa incontrovertibile e dunque nessuno può più interferire su quella decisione la sentenza dunque è una legge particolare per coloro che hanno partecipato a quel processo non si può non osservare il dettato della sentenza perché la sentenza diventa obbligatoria cioè ciò che è disposto nella sentenza deve essere osservato dalle parti che hanno preso parte al processo quindi la differenza tra una norma dello stato una legge dello stato e una sentenza è che la norma ha efficacia si dice erga omnes cioè nei confronti di tutti i consociati che insistono su quel territorio la sentenza ha un efficacia tra le parti per coloro soltanto per coloro che hanno partecipato al processo mi sembra una cosa abbastanza logica però mi faceva piacere ribadirvela perché tutti abbiate contezza di questo della portata delle parole il precedente giudiziario quindi la sentenza che viene emanata da un giudice il precedente giudiziario nell'ordinamento giuridico italiano che è un ordinamento di civil law come un ordinamento di civil law quello francese quello spagnolo quello tedesco è un ordinamento contrapposto se vogliamo che ha una natura completamente diversa rispetto agli ordinamenti di common law cioè di diritto comune che sono tipici degli ordinamenti degli ordinamenti dei paesi anglosassoni gli Stati Uniti la Gran Bretagna il Sud Africa l'Australia la Norvegia eccetera quali sono le caratteristiche degli ordinamenti di civil e di common law ve le dico in maniera molto spiccia gli ordinamenti di civil law hanno un corpo normativo sostanzioso quasi tutto quello che succede nella realtà è scritto e regolato da norme giuridiche poste che costituiscono appunto l'ordinamento giuridico l'ordinamento di common law invece è un ordinamento giuridico non scritto fatto costituito dalle decisioni giurisprudenziali negli Stati Uniti hanno poche norme scritte regolano tutto quello che succede attraverso i precedenti giurisdizionali i precedenti giudiziari attraverso le sentenze emanate dai giudici alcune sentenze per la loro portata innovativa rappresentano in quegli ordinamenti il leading case c'è un caso leader un caso che fa scuola rispetto a tutti gli altri casi che verranno in futuro e che si avvicinano a quella fattispecie già decisa ecco il precedente giurisdizionale il precedente giudiziario negli ordinamenti di common law non ha efficacia vincolante evidentemente perché il giudice negli ordinamenti di common law come il nostro è sottoposto soltanto alle leggi per un principio costituzionale quindi il giudice non decide sulla base di un'altra sentenza ma sulla base dell'ordinamento giuridico cioè delle norme poste dal Parlamento negli ordinamenti di common law si decide sulla base del leading case sulla base dei precedenti giurisdizionali ora se qualcuno di voi mi dovesse chiedere ma perché questa distinzione è certamente una distinzione che ha natura storica no quegli ordinamenti storicamente nascono e si evolvono così il nostro storicamente è nato e si è evoluto in questa maniera ma qualcuno mi potrebbe dire qual è quello che funziona meglio io potrei dirvi ci sono lati positivi e negativi in entrambi i tipi di ordinamento nell'ordinamento di civil law forse vi è più certezza nel diritto in quanto le norme sono già scritte però abbiamo più difficoltà a inseguire per esempio le nuove fattispecie che si presentano succede qualcosa nel campo informatico prima che il giudice possa decidere correttamente c'è bisogno che il Parlamento regoli quel fenomeno negli ordinamenti di common law il giudice si trova con un nuovo fatto a essere in grado di stabilire la norma che regola quel fatto attraverso la sua sentenza cioè la sua sentenza diventa leading case e quindi ha già risolto il problema perché con la sua sentenza ha posto fine a quella situazione di incertezza tant'è che tutti i nuovi tipi di contratti tutto quello che è avvenuto con l'avvento delle nuove tecnologie noi l'abbiamo assorbito per esempio da queste esperienze di common law per esempio che ne so il leasing che tutti voi conoscete è un contratto che prevede il pagamento a rate salvo poi una rata finale dove appunto avviene il trasferimento di proprietà non era una fattispecie prevista nell'osservamento italiano noi l'abbiamo acquisito da un'esperienza statunitense che già in qualche modo attraverso una sentenza era stata regolata così come il franchising così come alcune fattispecie appunto legate all'avvento delle nuove tecnologie non so se se ci si dovesse essere un leading case poco coerente così mi chiede un vostro collega un leading case poco coerente non sarebbe il leading case sarebbe una sentenza che probabilmente non è poi così rappresentativa i leading case sono quelle che effettivamente riscuotono un grande successo in termini di seguito quella sarebbe una sentenza emanata da un giudice che probabilmente verrà anche molto contestata i leading cases invece sono quelli che proprio rappresentano i punti di riferimento quelle che effettivamente sono molto apprezzate da parte della dottrina giuridica d'altra parte vi dico che anche nel sistema di common law come il nostro le sentenze molto rappresentative certamente influiscono in termini di persuasione da parte del giudice cioè se io sono avvocato e dico al giudice di primo di secondo alla Cassazione Badi che un caso analogo come quello che io le sto portando a conoscere è stato già risolto dalla corte di Cassazione in questa maniera la corte stessa non è vincolata a decidere in quel senso ma certamente sarà molto orientata a decidere in quel senso perché c'è un'efficacia persuasiva importante proprio perché io ho citato nella mia difesa una norma cioè una una sentenza particolarmente rilevante che ha ricevuto un certo seguito quindi se nell'ordinamento per concludere questo concetto se nell'ordinamento di common law il leading case ha efficacia vincolante negli ordinamenti di civil law il leading case ha un'efficacia per così dire persuasiva vorrei spendere vorrei spendere vorrei spendere due parole sul concetto di processo il processo giurisdizionale avviene avviene secondo degli schemi che sono previsti nei codici di procedura civile e di procedura penale ora nel codice di procedura civile ci sono le regole che governano il il processo di di diritto civile e nel codice di procedura penale ci sono le regole che governano il procedimento di diritto penale nel codice di procedura civile chi chi intende rivolgersi al giudice perché vuole avere la certezza che un diritto esista in capo a sé o non esista in capo a sé si rivolge al giudice ponendo una domanda si dice adisce il giudice questo soggetto prende il nome di attore cioè quello che agisce in giudizio quello che è chiamato a rispondere delle pretese dell'attore cioè quello che è probabilmente ha un interesse uguale e contrario cioè significa chiamare il giudice da parte dell'attore è l'attore che lo scomoda quello è a casa sua tranquillo a un bel momento gli arriva un atto che dice devi comparire in giudizio perché qualcuno contesta questo diritto che tu assumi essere tuo allora il convenuto va si rega in giudizio per difendere la propria posizione dice no non è come dice l'attore è come dico io e l'attore dirà non è come dice il convenuto è come dico io al centro ovviamente c'è un giudice che dovrà decidere un giudice imparziale terzo un giudice che non ha alcun rapporto con le parti perché se per combinazione se per avventura il giudice fosse un collega di lavoro di una delle parti un parente di una delle parti un socio di una società con una delle parti dovrà astenersi dal conoscere quella causa e la magistratura porrà lì un altro giudice che certamente avrà quel requisito di terzietà che è indispensabile per il corretto funzionamento del processo giurisdizionale attore convenuto ovviamente nella maggior parte dei casi sono persone comuni del popolo io uno di voi il professore battiato il fruttivendolo e chiunque altro qualunque altra persona siccome il procedimento giurisdizionale è regolato come vi dicevo dalle norme dei codici di procedura civile di procedura penale non si può stare da solo in giudizio cioè significa che bisogna essere rappresentati all'interno del giudizio da una persona che tecnicamente conosce bene le norme che regolano il giudizio stesso questa persona assume la denominazione di avvocato difensore procuratore legale sono due termini che significano la stessa cosa c'è colui che mi rappresenta in giudizio e traduce le mie istanze in termini giuridici per poter dialogare con lo stesso linguaggio con cui dialoga il giudice sarebbe quasi assurdo che ciascuno di noi possa conoscere tutte le norme così intrigate che regolano il procedimento giurisdizionale proprio per questo è obbligatoria l'assistenza di un avvocato difensore avvocato difensore che è garantito anche ai non abbienti perché noi sappiamo che un avvocato difensore è una persona che esercita un'attività professionale dunque vuole del denaro per esercitare quell'attività professionale e chi quel denaro non ce l'ha certamente dovrà essere comunque difeso da qualcuno perché il diritto di difesa è un diritto costituzionalmente garantito significa che tutti possono difendersi in giudizio hanno il diritto di difendersi in giudizio da un'accusa che gli viene mossa e quindi anche i non abbienti hanno c'è un istituto previsto dall'ordinamento giuridico che si chiama del gratuito patrocinio che serve a dare un avvocato difensore anche a chi non ha sostanze economiche l'avvocato l'avvocato difensore quindi traduce l'istanza del soggetto in termini giuridici per poter dialogare col giudice e cercare di portare l'acqua al proprio mulino in maniera tale da far vincere per così dire la teoria del soggetto che viene rappresentato quindi c'è un avvocato difensore per l'attore c'è un avvocato difensore per il convenuto il giudice a quel punto anche lui avrà una persona che lo collabora per esempio il cancelliere è colui che gli organizza l'agenda delle udienze cioè dei momenti in cui c'è un confronto tra le parti è quello che gli gli segnala quali sono le scadenze perché anche il lavoro del giudice è formato da scadenze entro un certo termine devi pronunciare la sentenza entro un certo termine devi fissare l'udienza eccetera eccetera questo è un compito che lo fa l'ausiliario del giudice che si chiama cancelliere il dettato del giudice invece viene eseguito formalmente da un altro soggetto che quindi collabora col giudice che si chiama ufficiale giudiziario è quello che per esempio porta ad esecuzione la sentenza pronunciata dal giudice è quello che per esempio laddove vi sia un debitore di un soggetto si reca nel domicilio del debitore e esegue il pignoramento di un bene affinché quel debitore possa estinguere il suo debito cioè esegue una forzatura su un bene affinché venga persuaso il il debitore ad assolvere al suo debito perché se non assolve quel bene pignorato viene venduto e con ricavato di quella vendita si viene a pagare il debito che quel debitore aveva assunto il giudice però e qua entriamo un po' più nel vivo del nostro ragionamento che sarà diciamo la parte principale della seconda parte di questo incontro il giudice potrebbe non essere competente su tutti gli argomenti potrebbe essere un bravissimo giurista ma non capirne niente di informatica e qui viene un altro ausiliare del giudice che può essere chiamato ad assistere le operazioni del giudice che si chiama consulente tecnico di ufficio quindi il giudice a un bel momento potrebbe dire io ho bisogno di una ulteriore competenza perché la causa me lo chiede la questione giuridica portata alla mia attenzione me lo chiede e dunque mi servo di una figura professionale che si chiama consulente tecnico di ufficio me lo chiamo a me gli faccio una domanda vuoi capire che cosa è successo in questo specifico caso che è stato portato alla mia attenzione e il consulente tecnico di ufficio comincia a svolgere tutta una serie di operazioni di accertamento di ciò che è successo in quello specifico momento cioè quando il giudice si serve chiama a sé un consulente tecnico di ufficio che è un professionista specifico di una certa materia anche le parti possono farsi assistere in quelle operazioni dai propri consulenti tecnici di parte che sono altrettanti professionisti specializzati in quella determinata materia che cercheranno di portare acqua al proprio muro della persona che stanno quindi quello che è nominato dal giudice si chiama consulente tecnico di ufficio cioè CTU in acronimo quello che è nominato dalle parti in conseguenza della nomina del CTU si chiama consulente tecnico di parte CTP in acronimo e finora abbiamo visto cosa succede nel processo per così dire civile amministrativo in realtà le cose sono molto simili nel processo penale invece le cose sono leggermente diverse nel processo penale alla notizia di reato cioè al momento in cui viene la magistratura viene a conoscere della sussistenza di un reato cioè che è stato commesso un reato cioè una fattispecie penale cioè c'è stata qualcosa che ha violato un valore fondamentale dello Stato la salute il patrimonio l'integrità fisica la dignità dello Stato i sistemi fondamentali che regolano lo Stato la salute pubblica o comunque la tutela del 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 paesaggio o in generale tutto quello che ha a che fare con la tutela della collettività allora in quel caso alla notizia di reato la magistratura chiama un suo uomo che fa parte vi dicevo della magistratura requirente che assume la denominazione di pubblico ministero il pubblico ministero costituisce il soggetto che pone l'accusa nei confronti di un altro soggetto è un organo dello Stato il pubblico ministero che fa l'interesse dello Stato all'interno del processo cioè è volto a accertare la responsabilità in capo ad un soggetto che si chiama imputato che è costituito da colui che si assume c'è stato la notizia arriva alla magistratura la magistratura mette dentro il processo un pubblico ministero che accusa quello che presume essere l'autore dell'omicidio che assume la qualità di imputato ora ovviamente il pubblico ministero avendo delle competenze giuridiche molto specifiche non ha bisogno dell'avvocato difensore mentre invece l'imputato sì quindi l'imputato sta in giudizio attraverso la rappresentanza dell'avvocato difensore il pubblico ministero però che svolge il ruolo di accusa può farsi collaborare dalla polizia giudiziaria che svolge le indagini che svolge gli accertamenti e può farsi collaborare anche da un consulente tecnico del pubblico ministero cioè da un tecnico che abbia competenze specifiche in quel determinato settore e che lo possa collaborare appunto nell'accertamento della verità cioè se quell'imputato effettivamente è stato proprio lui a commettere quel reato oppure no quindi a assolverlo oppure condannarlo aiutare ad assolverlo a condannarlo visto che questa decisione spetterà al giudice e non ovviamente al pubblico ministero nel processo penale interviene spesso anche ma non obbligatoriamente anche una terza parte che si chiama parte civile o parte offesa dal reato è il soggetto che subisce le conseguenze del reato potrebbe essere lo stesso soggetto che ha subito di fatto il reato lo scippo la rapina oppure lo scambio di persona e quindi in quel caso interviene egli stesso come persona appunto offesa dal reato ma potrebbe essere anche un soggetto diverso dal soggetto che ha subito il reato in particolare perché per esempio quel soggetto non c'è più perché è stato ucciso e allora in quel caso la parte civile rappresentata dai parenti poi dell'associazione di categoria di quel soggetto che è stato appunto privato della vita ovviamente anche questi saranno collaborati da un avvocato difensore o da un consulente tecnico di parte che ovviamente faranno l'interesse sosterranno le tesi del pubblico ministero affinché venga trovata una l'imputato di essere responsabile di essere condannato e qua c'è la non so se questa parte vi è sufficientemente chiara ma a questo punto vi commento un'ultima slide prima di una pausa di una decina di minuti potete vederla la slide intitolata verità ok cosa fa il giudice durante il processo cerca la verità cioè cerca di capire cosa è successo realmente all'interno del processo e affinché possa dare la soluzione più equa possibile più rappresentativa del diritto possibile più prudente possibile però c'è una c'è un limite il limite umano cioè la ricerca della verità conosce il limite dell'essere uomini quindi esiste una verità assoluta che è quella a cui tende l'uomo che probabilmente non appartiene all'uomo ed esiste una verità processuale che invece appartiene pienamente all'uomo ma che potrebbe per avventura anche non coincidere con la verità con la verità assoluta o l'uomo attraverso il processo cerca di fare in tutti i modi affinché si possa raggiungere la verità assoluta però poi a un bel momento quella è la verità che è stata raggiunta dall'uomo in quel processo potrebbe benissimo avvicinarsi alla realtà vera così come potrebbe essere distante o leggermente distante non ci sono non sono stati pochi i casi in cui c'è stato un errore della giustizia persone che hanno subito pene pur non essendo responsabili di un fatto ma nella maggior parte dei casi dire nella stragrande maggioranza dei casi attraverso il processo ci si avvicina a ciò che è successo attraverso tutte quelle operazioni che vengono svolte durante il processo quindi non fate coincidere necessariamente il concetto di verità assoluta con quello di verità processuale la verità processuale tende vorrebbe avvicinarsi ad una verità assoluta ma certamente potrebbe non essere esattamente coincidente con quella certamente seguire formalmente le regole che governano il processo porta ad una verità quanto più possibile secondo i limiti dell'uomo vicina a una verità assoluta ed è per questo che il rispetto delle forme sulle quali molte volte ho sentito che il professore Battiato si è fermato è soffermato nelle sue digressioni e ha puntualizzato nel rispetto delle forme si raggiunge la verità del diritto cioè se non rispettiamo le forme probabilmente il diritto non si raggiunge cioè la verità giuridica non si raggiunge è il rispetto delle forme che è fondamentale per far raggiungere quella verità processuale che si avvicina quanto più è possibile alla verità assoluta ed è per questo che il non rispetto delle forme è sanzionato dal diritto cioè se io ho la potestà di fare una cosa entro un certo termine e la faccio il giorno dopo il diritto mi sanziona cioè non mi dà più la possibilità di svolgerlo perché quel termine è spirato è scaduto c'è una ragione perché quel termine era fissato perché io ho avuto tutto il tempo di fare quella cosa entro quel certo termine se a un bel momento quel termine l'ho lasciato passare senza svolgere l'attività che mi era consentito fare entro quel termine allora allora non avrò più la possibilità di farlo e ho perso una chance l'attività di consulenza che è quella che andremo a guardare nella nella seconda parte di questo di questo incontro è un'attività che deve essere svolta entro quei limiti che mi sono consentiti dal diritto ed è per questo che l'attività di consulenza è un'attività che mette insieme competenze tecniche di un certo tipo con competenze giuridiche cioè il consulente tecnico che sia di parto che sia di ufficio deve conoscere bene le regole che governano il processo altrimenti rischia di svolgere attività che poi non sono utili ai fini del processo ai fini dell'accertamento della verità con questo mi fermo dieci minuti direi alle 10 e 30 10 e 25 ricominciamo riprendiamo grazie sì se posso suggerire io adesso stacco la registrazione usciamo tutti da questa riunione faccio partire io una riunione tra dieci minuti e poi tutti ci agganciamo a quella va bene ok dopo grazie a tutti 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 Grazie a tutti